La mia collaborazione con Piers è la dimostrazione del fatto che la musica è universale, la melodia che c'è, tutto può cambiare, fondamentalmente una samba suonata con la chitarra, la base della batteria è minimal, però comunque il mio testo dico cose abbastanza serie, se vai a ascoltare quello che dico, quindi è veramente un insieme di elementi che ti fanno riflettere sulla condizione attuale delle cose nel mondo. Dicono tutto cambia mentre tutto quanto resta uguale, un bambino nasce mentre un vecchio amico è all'ospedale e non ce la potrebbe fare, lo conosco da quando eravamo in terza elementare, Dio sa quanto fa male. Ho girato in mezzo un mondo e sai cosa ho trovato in fondo, gente sola in ogni posto anche se ha un sacco di fana intorno, non ha senso andare fuori specialmente in questi giorni, la mia bimba è andata ma la porta è aperta in caso torno. Non posso credere a quello che dicono al TG, sono giorni matti come abbiamo fatto arrivare fino a qui, un'altra guerra di bush e sangue per petrolio, ormai non li ascolto più, già è tanto son lavoro. Parli di crisi dei tempi, non c'è crisi dagli anni venti, la guerra ci ha fatto stare tutti sull'attenti, e MySpace dimmi ci ha davvero fatti più contenti, non è come sei, è come diventi, ma in tutto resta uguale. La stazione è una destinazione, trova le parole, prova a respirare, siamo come binari, siamo circolari, tutto può cambiare, oppure tutto resta uguale. Ogni giorno è lo stesso, per macchina e sesso e il ti interessa hai messo tutto te stesso, e fra cent'anni sarai ancora lo stesso, ma in come è successo? A volte mi viene da chiedere come si fa, Gesù Cristo l'ha detto, ma come avrei notato ora non è più qua, stare in studio all'Elisir, faccio pezzi per la TV, cinque anni ancora qui, e ti trattano come un Happy Meal. Se ti senti poco apprezzato, se ti senti poco accettato, dal collo del muro di Berlino a ora, man, poco è cambiato. E so che ti sembra un mondo, ma sai cosa ho visto in fondo? Gente sola in ogni posto, che fa soldi a ogni costo, man guardati intorno, e non dirmi se è la vie. Siamo andati dall'Eden, ad avere un mondo al DDT. Tra Avril Lavigne e Sarkozy, man, chi è più chic? Sono solo a casa, scrivo e verso sangue e down a brick. Ho visto mondi diversi, ho perso amici e molti dispersi, sono ancora lo stesso? Beh, guardami in faccia, non lo direi sì. Una stazione, una destinazione, trova le parole, prova a respirare. Siamo come binari, siamo circolari. Tutto può cambiare, oppure tutto resta uguale, tutto resta uguale, tutto resta uguale, tutto resta uguale. Quando aiuti cancella le macchie, quando sono permanenti, e spesso non bastano gli emendamenti, i parlamenti sotterfuggi. Se poi distruggi, non guardi e fuggi, la vita un numerà come una stedicam, e ci stranumerà se puoi ti scaricare. Agosto nevica, novembre e latità, tra un po' l'Islanda diventa Africa. Scegli una stazione, una destinazione, trova le parole, prova a respirare. Siamo come binari, siamo circolari. Tutto può cambiare, oppure tutto resta uguale, tutto resta uguale, tutto resta uguale, tutto resta uguale. Oppure tutto resta uguale, 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 tutto rest